Inghilterra, Spagna. Inghilterra, Spagna, no, no. Inghilterra, Spagna. Risultato esatto? 2 a 1. Per la Spagna. 3 a 0. Per la Spagna? Cosa ne pensano? Spagna, Inghilterra? Non lo so. Non mi prendo. Spagna, Inghilterra. Tempi regolamentari, 2 a 0 per la Spagna. Stasera c'è Inghilterra, Spagna, finale di europeo 2024. Inghilterra, Spagna, 0 a 3. 3 a 0 per la Spagna. Luigi? 2 a 0 per l'Italia. Ah, scusi, non c'è ancora l'Italia. No, l'Italia non c'è più. Hai fatto un lapsus. Non c'è l'Italia. Stasera, 3 a 2, ai rigori. Spagna. No, no, sempre Spagna. Quanto? 2 a 0. 2 a 0 Spagna? Io dico 2 a 0 Inghilterra, massimo 2 a 1 per l'Inghilterra. 2 a 1 per l'Inghilterra, per me. Come? 2 a 1 Spagna. Questa è una fase pericolosa. Finale di europeo 2024. Spagna. Quanto? Spagna, almeno 3 a 1, 2 a 1. Inghilterra, Spagna, Guido? No, secondo me 1 a 0 per l'Inghilterra. 1 a 0 per l'Inghilterra, gol di Kinn. 1 a 0. Quanto? 1 a 0 fa. 2 a 1. Aldo? 2 a 1 per la Spagna. 2 a 1 per la Spagna. I diavoli rossi. Bene. Secondo le aspettative dei bookmakers, la Spagna dovrebbe vincere. Ma secondo me l'Inghilterra agguanta questo europeo. 2 a 0, 2 a 1 per l'Inghilterra. Buonasera a tutti. Libra, Rimini. Elisa, Italia. Spagna, Inghilterra. Che cosa ne pensi? Il risultato esatto. 2 a 0. Per? L'Inghilterra. 1 a 0 per la Spagna. Mariangela, Inghilterra-Spagna. La finale di Coppa Europea. 2 a 0 per la Spagna. E Matteino pensa? 1 a 1. Orestes, Spagna-Inghilterra. Supplementari, 1 a 1. Ingeri, fuori l'Inghilterra. Spagna. Il risultato esatto? 2 a 1 per la Spagna e i tempi supplementari. Paolo, Inghilterra-Spagna. Finale campionato europeo 2024. Spagna. Il risultato esatto? 2 a 0. Per? Per? Il risultato. Il risultato. Per? Il risultato. Grazie a tutti.